Dieci persone sono state deferite all'autorità giudiziaria della Guardia di Finanza di Crotone a seguito delle attività di approfondimento delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dai soggetti obbligati ai fini della normativa antiriciclaggio. I minuziosi accertamenti svolti dalle fiamme gialle calabresi in relazione allo sviluppo di 17 segnalazioni hanno consentito di rilevare la commissione di varie tipologie di reato, fra cui quelli fiscali, emissioni ed utilizzo di false fatture e omessa presentazione della dichiarazione e il riciclaggio di proventi illeciti. Sono state inoltre verbalizzate nei confronti di altrettanti soggetti 23 infrazioni amministrative relative al superamento della soglia limite dell'utilizzo del denaro contante, che negli ultimi sei anni era stata fissata a 1000 euro, in ordine alle quali scatteranno sanzioni amministrative in capo ai contraventori per complessivi 90.000 euro.